Molti accaniti, ma anche molte accanite del programma televisivo Uomini e Donne si stanno chiedendo ma quando tornerà a esserci questo programma tv che fa compagnia il pomeriggio di ogni giorno ebbene, pensate che farà il suo arrivo in tv un po' prima del solito, insomma, andrà a anticipare i tempi infatti, pensate che dal 10 settembre 2018 alle ore 2.45 del pomeriggio Maria De Filippi tornerà proprio sul canale 5 con questo programma che viene considerato ad oggi come uno dei suoi programmi di punta che viene apprezzato da non solo teenager ma anche da persone un po' più in là con l'età Perché anticipare i tempi? perché ciò potrebbe derivare dal fatto che il 10 settembre ci sarà l'esordio della bella, brava e simpatica Catrina Barivo con il programma sulla Iure intitolato Vieni da me che alle ore 14 ci terrà compagnia nella casa RAI, radio televisione italiana i nomi però di quelli che sono i nuovi tronisti ancora non si sanno al momento e ancora non è dato sapere chi eventualmente sarà vi ringrazio per la visione, vi ringrazio per l'ascolto un caro saluto al prossimo video da un altro italiano Grazie a tutti